Siamo di nuovo su QOP Un'idea GD che ha caricato il suo video Ha fatto 67,1 metri E quindi niente Adesso lo voglio sfidare anch'io Raga Dunque i tasti QV Ricordiamoci QV Allora aspetta che mi devo ricordare Partiamo già bene Allora QV O P Comunque dobbiamo cercare di fare Allora Allora non mi ricordo più Allora aspetta Ecco Capirai Adesso non ce la caveremo più Comunque dobbiamo fare più di 67,1 metri ragazzi Sì qua vado lì indietro più che in avanti Come faccio a vincere Dai che devo vincere la gara Devo riuscire A trovare un sistema No 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 Non riesco più A equilibrarmi come l'altra volta Non riesco a capire come facevo Come facevo l'altra volta Com'è che facevo? Così? No Aiuto No No Non ce la faremo mai ragazzi Allora così E' tutto accusciato Dai vai avanti No No Non cadere Non cadere Andiamo avanti così Ma non si può andare avanti così Dai Alzati un po' Fai qualcosa Oh 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 Aiuto 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 No Un po' stanno andando avanti ragazzi Balzellone, balzellone sul ginocchio No, 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 casco, casco No, no, non sono caduto, non sono caduto Allora siamo 1,4 metri Ma sembra ragazzi, è difficile sto gioco Ecco adesso casco, vado a cadere Ah no, 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 non sono caduto Cioè, non so Noi avevamo la tecnica a ginocchio Devo dire che anche gli altri più o meno andavano di tecnica a ginocchio Perché altrimenti non so come si riesca a fare Dobbiamo cercare un equilibrio Ma non so se voi ragazzi ci avete già giocato a questo gioco Mi piacerebbe se qualcuno vuole sfidarci anche lui su questo gioco E dato che adesso per ora ci stiamo sfidando Io, The Dark e AGD Comunque chi vuole sfidarci Ecco dai adesso ho preso Oh, sto andando avanti, sì o no? Sto andando Sì, 11,4 No, ma davanti vado indietro Eh, sta andando Non è che vado tanto avanti Ecco, cado a cadere Ah no, 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 no Stavo rischiando, stavo rischiando Comunque dicevo, chi vuole provare Non riesco a cadere avanti Ci va, ci va Ecco, casco No, 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 non cadere Ti paura E comunque, dai Adesso andiamo avanti un po' così Di 20 metri Siamo a 20 metri Dai, vai avanti Vai avanti O metto del cavolo Vai avanti Vai avanti Vuoi andare avanti Su, su Dai vai Vai avanti O metto Vai avanti Nella tua maniera strana No, 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 no No, 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 no Aiuto Aiuto 40 metri 41 metri 41 metri 41 metri Aiuto Ok, c'è un'andatura un po' strana Un po' salto tipo la Nokia Oh Oh Saltellini Saltellini Eh, qua c'è l'ostacolo Come si fa Come, come cavolo faccio qua dall'ostacolo Aiuto Dunque Com'è che va fatto Guarda Quelli di AGD L'aveva spinto L'aveva spinto Ecco, l'aveva spinto Adesso dobbiamo cercare di Saltarlo Ragazzi Come facciamo qua No No Aiuto Ok, siamo riusciti a soltropassarlo Ma questo qua si spacca le palle Con questa cosa qua Ok, se Forse Ce la capiamo Uh No No Dai Dai No, 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 no Uh, cavolo Cavolo Dai 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 Ti frego Ti frego No No, 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 no Come faccio qua No 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 Non ce l'ho fatto No Dai Dai non è facile non dato dunque io devo riuscire a arrivare a 67.1 e sono a 65 66, 67 dove è andato l'ostacolo? sto andando avanti soprattutto 61 62 dai ce la posso fare ce la posso fare no 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 non devo fare cretinate proprio adesso è piuttosto meglio strisciare perché ogni tanto sono competitivo anche io aiuto non cadere un mino di merda se cadi proprio adesso guarda veramente ti mangio perché sono mezzanotte e 38 e se adesso ok 65,7 66 67,1 ha fatto quelli di agd oh oh dai no 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 non fa ecco sì 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 ho passato sono a 68,3 bene allora allora ce l'ho cavata agd ho superato diciamo il record adesso voglio provare anche a correre un po' anche più in maniera decente volevo provare però è veramente difficile con questo ometto cioè no ecco niente volete fare qualcosa di un po' diverso ma niente vabbè diciamo che il mio record per ora è 71,6 metri o volevo fare assolutamente questa rivincita perché l'altra volta si ho fatto le cose dai dai e quindi chi vuole continui la gara se no se non volete andare avanti vuol dire che il vincitore rimane svideo ciao 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 ciao